Mi sembra che gli annunci vada in una direzione positiva, sia i risultati del gruppo sono buoni, quindi io credo che quando a suo tempo, nel 2004-2005, esprimetti fiducia in Marchionne di non aver sbagliato. Mi sembrano positivi anche gli annunci sul futuro, la scelta della categoria premium per l'Italia, l'investimento sull'elettrico, naturalmente però adesso bisogna vedere come questo cala poi nei singoli stabilimenti e quindi come riuscirà a garantire il pieno utilizzo dei stabilimenti e il pieno utilizzo dei lavoratori. Per questo io ritorno sommessamente a chiedere un incontro sulla base del tavolo che avevamo fatto qui in Regione ormai circa tre mesi fa.